Sull'ultimo numero della rivista Lancet, la prestigiosa autorevole rivista di medicina, ho trovato un articolo, un breve articolo, un breve commento molto interessante, molto particolare. Il titolo è una domanda ed è questa. Il Covid-19 ha sovvertito la salute globale? Il commento parte da un dato che è stato rilevato e aggiornato ai primi di maggio e cioè che più del 90% delle vittime di questa pandemia ci sono state nei paesi ricchi, il 90% è tantissimo, addirittura se aggiungiamo anche tra questi paesi la Cina, il Brasile e l'Iran si arriva a una percentuale del 96%. Questo significa che per fortuna, perché sarebbe un'ulteriore tragedia nella tragedia, questa pandemia ha colpito molto limitatamente appunto per il 4% i paesi più poveri, per esempio in particolare i paesi africani. Ovviamente speriamo che questa cosa rimanga e che non ci sia in realtà un allargamento della pandemia anche in Africa. Ne abbiamo tra l'altro già parlato anche su Ilbo Live con un articolo di Pietro Greco che si interrogava sulle cause di questa mancata per ora diffusione della pandemia in questi paesi. I fattori che potrebbero incidere sono diversi, vengono ripresi anche da questo articolo di Lancet, principalmente due. Uno sul quale siamo abbastanza sicuri è la giovane età media che c'è in questi paesi, in Africa subsahariana addirittura mediamente di 19 anni l'età media e quindi questo virus a RNA colpisce di meno queste popolazioni perché sono più giovani, decisamente più giovani mediamente. Un'altra causa riportata da Lancet è il fatto che in questi paesi non c'è l'abitudine delle case di riposo, cioè di luoghi in cui tante persone anziane si trovano tutte a contatto, tutte insieme nella stessa struttura, ma gli anziani sono curati a casa. E poi c'è il tema che qui è soltanto accennato, ma comunque è meno diciamo comprovato al momento sul piano empirico, sul piano scientifico, cioè che forse in questi paesi, essendo queste popolazioni purtroppo più abituate di noi all'attacco di agenti patogeni, ricordiamo che Ebola fa ancora migliaia di vittime, le ha fatte anche negli ultimi anni, negli ultimi mesi in Africa, il loro sistema immunitario potrebbe essere un pochino più allenato, un pochino più preparato a far fronte anche a una pandemia come questa. Però c'è una seconda parte di questo articolo che vi consiglio tanto di leggere, che è molto interessante, perché dice che la salute globale in realtà va sempre calata nei contesti particolari e deve sempre avere come faro, come punto di riferimento, la giustizia e la lotta alle diseguaglianze. E ci sono tutta una serie di altri dati interessanti, dove si scopre per esempio che in paesi poveri come questi o molto popolosi, dove i sistemi sanitari ovviamente sono molto più deboli dei nostri, se ci sono pochissime terapie intensive, meno ventilatori, una strategia di quarantena generalizzata come quella che abbiamo adottato noi e molti altri paesi, in realtà potrebbe non essere la scelta più corretta, perché in realtà impedisce l'accesso alle cure già molto difficoltose per tantissime altre malattie che mietono purtroppo tantissime vittime in questi paesi, quindi ci sono dati interessanti che fanno vedere anche un po' preoccupanti, che fanno vedere che questa quarantena ha ridotto tantissimo le campagne di vaccinazione, di diagnosi, l'accesso alle cure di tantissime persone in questi paesi, quindi bisogna stare un po' attenti a questo tipo di misura, perché tende a ridurre molto l'impegno su tante altre malattie, in sistemi sanitari appunto più deboli come questo. E poi ci sono altri dati da considerare appunto sul fatto che interventi troppo drastici potrebbero peggiorare le condizioni di disuguaglianza all'accesso alle cure, alla salute che ci sono in questi paesi, per esempio si fa notare che in questi paesi moltissime persone si guadagnano da vivere nel contesto della cosiddetta economia informale, quindi in una situazione di chiusura totale questi letteralmente non sanno come guadagnarsi da vivere. Le Nazioni Unite hanno stimato che ci sono più di 300 milioni di bambini che riescono a mangiare, ad avere a soddisfare un bisogno minimo alimentare grazie alle mense scolastiche e a istituzioni pubbliche dove vanno a studiare, che in caso di chiusura come queste non ci sono e quindi rischiano letteralmente la fame, senza contare che in una lista di paesi, che poi viene fatta, la chiusura forzata ha preso un po' la mano alle autorità e sono stati registrati anche comportamenti autoritari da stato di polizia molto preoccupanti. La proposta che viene fatta in questo articolo finale io trovo sia molto interessante, loro dicono che in questi paesi, a maggior ragione se, speriamo di no, la pandemia dovesse allargarsi anche in questi paesi, non potendo ovviamente cambiare i sistemi sanitari in poche settimane nemmeno con ingenti finanziamenti, bisognerebbe fare più affidamento a quella che loro chiamano un approccio basato sulla comunità, cioè su dei reti territoriali a maggior ragione e quindi su cure localizzate, su quarantene localizzate, ovviamente su una cultura, un'educazione all'igiene e questo perché, è la conclusione, non c'è salute che non sia rispettosa del contesto e della uguaglianza e della giustizia sociale e a volte appunto delle misure troppo drastiche possono creare più danni rispetto ai benefici che vogliono arrecare. Quindi un bellissimo e interessante articolo di riflessione sulle connessioni che dobbiamo imparare a conoscere sono sempre più strette tra la disuguaglianza globale, la disuguaglianza che c'è all'interno dei paesi, tra varie aree nel pianeta e la salute dei cittadini, che è un grande fondamentale diritto per tutti.